radio ok in collaborazione con magilla spettacoli presenta dimmi la tua interviste con i personaggi e gli artisti del momento ogni martedì giovedì e sabato alle 19 e 30 in diretta live sulla pagina facebook radio ok conduce daddy dj un ospite diciamo di eccese ma è un grande come devo dirti un grande personaggio della musica del mondo della musica è molto molto in gamba lui è proprio il nostro professore furvio parese è un musicista un musicista polietrico lo definisco io è originario di ragale ha studiato saxofano presso il conservatore di odito schiva di lecce ed è dottore di ricerca cari in filosofia presto l'università del salento questo è il nuovo non lo sapevo esatto e collaborato tra gli altri con già vergirotto penso arbore cedri porter paolo belli quindi levis tetania michel marcello pani gianni cazzolla john x leonardo la sera diciamo admir shurtaki e antonio palazzo e beppe silvillo andrea mingardi giorgi erison c'è ci sono l'ira di dio di personaggi dei video di modugno gerger del esforo del esforo scusami ma poi c'è 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 tutto ci ci siamo incrociati dai qualche un po di volte con questi queste persone molti di questi sono anche dei cari amici poi siamo diventati anche molto amici con alcuni di loro con alcuni di loro no ma è giusto che sia insomma dai attualmente docente di saxofano presso l'università dams di lecce no di questo ricorrendo queste queste hai un saxofono presso il liceo musicale palmieri di lecce e poi e poi anche presso il metropolis music school che è una bella iniziativa musicale che c'è a lecce insomma da due anni però poi sappiamo anche no che so anche che il maestro fulvio valese è anche un noto diciamo collaboratore cinematografico perché ha collaborato in vestiti compositore esecutore con con cristina comencini giovanni peronesi michele placido e vincenzo bocciarelli astragali teatro danni moretti poi ebbè poi abbiamo l'innumerevoli cd prodotti da fulvio valese poi c'è uno in particolare non dico recente ma dei comics tune tune è stato per diverse settimane nelle primo nelle classifiche di iTunes un lavoro che si snota con tante tracce è troppo bello io ho avuto modo di sentirlo anche su in internet ma poi ciliegina sulla torta e ha un diciamo il modo di trasmettere le sue copertine sono ricchi di fumetti soprattutto di base di base di tali disegni sono di maurizio d'anna cioè la maggior parte delle copertine che fulvio valese realizza i propri cd sono del noto maurizio d'anna a cui ci accomuna presumo un'amicizia il comune perché morizio è il fotografo e il fotografo di lecce e poi abbia poi realizzato un videoclip molto bello sì più che altro più che altro morizio mi aiuta molti anche in alcune cose della grafica ma mi aiuta molto per la realizzazione dei video perché diciamo mentre i disegni le illustrazioni di the comics tune in realtà sono di federico mele che è un fumettista sempre uno strano che io conosco in realtà da quando era veramente in fascia posso dire che ha realizzato quelle immagini perché la mia idea era quella di fare insomma chi ha qualche anno in più se lo ricorderà di fare una un video come era negli anni 70 super gulp fumetti in tv appunto dove in realtà c'erano delle animazioni che si basavano sulle tavole dei fumetti e credo che morizio abbia fatto diciamo veramente un gran bel lavoro ecco in quel caso e su tra l'altro poi il video si snoda su un brano qui io tengo moltissimo perché è un brano dove insieme a me canta Susanna Stivali che è veramente una delle grandi voci del jazz italiano e non solo e posso dire veramente mia sorella ecco una una di quelle persone con cui ci siamo ritrovati a lavorare insieme con le quali poi si è instaurato un'amicizia un legame davvero che va al di là anche della musica e del lavoro ecco diciamo chi sono stati partiamo proprio nell'intervista una vita professionale ma soprattutto con la tua vita musicale direi ci sono stati i suoi maestri e e chi sono i riferimenti musicali questo è molto importante questo è molto importante diciamo dipende che cosa vogliamo intendere con maestro perché per esempio io io sono nato ho iniziato a suonare in una scuola di banda nella scuola di banda del mio paese con un glorioso maestro che era ed è anzianissimo ma insomma il signore ce lo lascia ancora per fortuna che è il maestro Pompiglio di Brando è stata la persona che mi ha messo in mano per la prima volta il saxofono e quindi sono molto legato a quell'esperienza che poi voglio dire come sappiamo è una parte importante anche della nostra cultura salentina la cultura bandistica ecco quindi questo diciamo come antefatto poi io reputo maestri veramente tutta una serie di personaggi che ho incruciato anche casualmente nella mia vita per esempio in un periodo quando ero poco più che adolescente ho frequentato molto per esempio Milano lì ho avuto il piacere di alcune volte di suonarci anche insieme con alcuni di loro ma di conoscere per esempio un po' tutto insomma in questi locali veramente oggi mitologici che erano il capolinea le scimmie il tangram di conoscere veramente tutto quello che era il panorama musicale soprattutto il jazzistico italiano Gianni Cazzolo appunto lo hai citato prima tra le persone con cui è voluto piacere di suonare ma Marco Vaggi sto parlando di Peter Guidi sto parlando di personaggi importanti alla musica anche se magari non noti a grande pubblico che però diciamo mi hanno molto influenzato ecco diciamo così quindi e poi lì poi Milano in quegli anni era veramente bellissima nel senso che giravano veramente nel dopo spettacolo in questi locali in questi club dove si suonava veramente che notte fonda giravano veramente i personaggi più incredibili ho avuto la possibilità di incrociare alcune altre che so cochi e Renato per dire dopo gli spettacoli in realtà venivano lì cioè quindi era tutto molto bello sto parlando veramente di tanti anni fa è stato con gli incontri alcune volte casuali devo dire mi hanno dato molto quindi reputo diciamo come ti hai accorto Fulvio di avere questa passione diciamo per il sax? quali sono stati i primi sintomi? beh no casualmente casualmente perché io in realtà da piccolino volevo suonare la tromba perché avevo un anziano zio che suonava la tromba ed era in realtà uno dei pochi strumenti al fiato che io conoscessi e quindi dissi a questo mio primo maestro in questa piccola scuola dove ho iniziato che volevo suonare la tromba e lui un giorno mi portò una tromba in realtà e mi fece provare a suonare io molto probabilmente non riuscì a a produrre nulla di buono in quel momento e mi disse guarda sei prova quest'altro strumento e mi fece vedere questo strano strumento a forma di pipa che non avevo mai visto che non sapevo che si chiamasse saxofono appunto e l'ho preso probabilmente ho emesso subito qualche primo paggito diciamo così e da allora sono passati tanti anni ormai più di 40 la cosa singolare è che insieme a me in quel momento quel pomeriggio iniziò a suonare la tromba invece al mio posto un altro ragazzo che era lì che era Antonio Mariani Antonio Mariani oggi è la prima tromba dell'orchestra sinfonica di Lecce quindi questo maestro che chiamò vicino alla sua cat tra questi due ragazzini insomma che avevano dimostrato qualche tipo di attitudine insomma fino a quel momento avevamo fatto soltanto teoria diciamo così insomma probabilmente ce l'aveva visto lungo e quindi sia pure diciamo facendoci invertire gli strumenti perché appunto io volevo suonare la tromba e a lui avrebbe dato il sax invece insomma così cambia gli strumenti e siamo rimasti da allora lui con la tromba e io con il sax quindi è iniziato casualmente in realtà poi mi sono appassionato subito ma l'inizio è stato molto casuale è stato anche casuale iscrivermi in quella scuola perché c'erano alcuni amici di scuola c'erano alcuni amici di scuola che si erano iscritti era una scuola gratuita quindi si poteva andare così il pomeriggio e quindi andai così per stare con i miei amici sostanzialmente quindi da lì poi è partito tutto cosa per significato seguire il sogno della mostra eh 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 guarda bella domanda guarda vi faccio vedere io sono seduto un tavolo dove spesso lavoro per esempio ho degli spartiti ho un libro di armonia perché stamattina facevo una lezione di armonia ad una mia allieva eh che altro sì altri spartiti quindi quindi eh la musica diventa chi lo fa come professione ovviamente diventa una compagna di vita quasi totalizzante perché ovviamente per me è è un chiaro è una grande passione innanzitutto eh è anche un lavoro e quindi questo mi ritengo davvero fortunato a fare aver fatto un lavoro di una cosa che mi piace molto poi come dire eh la musica modifica anche un po' il pensiero che uno pensa anche un po' musicalmente no? e come anche ma questo è anche vero anche per la filosofia che appunto ci davi prima diciamo sono un po' quasi dei dei vizi diciamo così che uno prende e che non riesce più a togliersi di dosso no? quindi anche in questo questo strano periodo che stiamo vivendo che insomma da un anno ormai beh la musica certo è stata una compagna importante anche se non si fanno concerti questo mi manca molto però sopperisco un po' con i rapporti che ho anche con i miei allievi insomma con l'insegnamento che è una cosa molto importante però non ci sono i concerti insomma questa non è è una cosa ovviamente molto brutta non solo per i musicisti ma per tutti anche per il pubblico però insomma non è mai mancato insomma sono stato uno di quelli anche che si è prudicato a produrre dei video a mettere in red così insomma a far sentire anche un po' la propria presenza no? quindi diciamo che è un po' più che un lavoro è un po' più che una passione direi insomma è un po' la mia vita insomma così come la vita di tanti altri amici colleghi insomma che ne hanno fatto un po' il proprio percorso come oggi oggi sappiamo no? l'uomo deve convivere come convive oggi l'uomo con il padre e nello stesso tempo anche il musicista l'uomo padre musicista come eh allora io ho un figlio che peraltro adesso sta girondolando per caso dico una cosa una mia grande passione chi mi conosce lo sa ma una mia grande passione è il ciclismo che io vado in bicicletta eh da sempre praticamente e anche questo pomeriggio abbiamo fatto un bel giro in mountain bike con sia mio figlio abbiamo fatto lui è lui è fortissimo io insomma cerco di di non farmi distruggere più di tanto ecco così quindi eh sarei così sarebbe stato eh insomma adesso ha 18 anni quindi insomma ha scelto di fare delle altre cose eh lui sta studiando per diventare uno chef quindi eh stamattina era registrare un programma che insomma andrà anche in onda nei prossimi tempi non so bene quando non sembra nel programma della parodi sulla cucina cose così eh sarebbe stato secondo me un grande musicista che insomma è sempre vissuto nella musica da piccolino però insomma ha scelto delle altre strade mi va benissimo appunto lo sport la cucina sono delle belle cose comunque ehm allora come il musicista diciamo che credo di avere una vaga idea su come farlo l'uomo insomma sono un uomo insomma alla nagra per cui insomma cerco di barcavenarmi sul fatto del padre eh è una è chiaro una sfida continua insomma di questi tempi soprattutto no cioè avere dei figli insomma a parte che è una grande responsabilità ma è sempre una domanda continua che ti viene fatta tutti i giorni eh da loro e dalle circostanze che gli quindi diciamo che eh ce la metto tutta ecco ho veramente un grande rapporto con mio figlio quindi insomma mi reputo fortunato anche in questo senso però ce la metto tutta per essere all'altezza ecco anche perché nel frattempo anche fisicamente mi ha superato in altezza io non sono proprio un bassino ma lui è più alto di me quindi cerco di essere alla soltezza in tutti i sensi ecco soprattutto in bici ecco perché insomma ormai l'ho perso da un po' di tempo oggi adesso no siamo proprio davanti al Fulvio quindi abbiamo un Fulvio che ormai ha perso una rampa del concetto no oggi sono un Fulvio che ormai lo conoscono dappertutto ormai conosciuto in tutto il mondo ci sono dei nuovi progetti delle nuove collaborazioni che Fulvio sta facendo quest'ultimo quest'ultimo tempo anche a causa del covid da casa no sì guarda sì sì dimmi 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 oppure si ha intenzione sotto forma di una domanda quindi l'intenzione di fare qualcos'altro o o stiamo fermi diciamo per un posizio di stare fermo è un parolone no fermo no nel senso devo dire la verità su alcuni progetti che avevo in mente già da molto tempo perché poi mio ultimo disco risale al 2017 insomma quindi è un po' che sto lavorando su un altro progetto che doveva più o meno realizzarsi insomma in questo ultimo anno ma francamente diciamo che la cosa è un po' arenata perché ovviamente poi oggi per un musicista fare un disco significa anche poi portarlo in giro fare i concerti eccetera se non c'è questa cosa la vedo la vedo quasi come uno spreco ecco non è mai uno spreco produrre musica però per farmi per intenderci noi invece progetti belli diciamo anche diciamo anche un po' figli del covid invece ce ne sono tanti per esempio vedete alle mie spalle infatti mi sono accorto adesso ci sono vedete appesi degli occhi dei quadretti che sono degli occhi c'è anche la banda del grandissimo Ugo Tapparini insomma che è un grande nostro pittore però i due occhi sono dei mosaici in realtà fatti da un'artista bravissima salentina che è Stefania Bolognese con la quale abbiamo fatto già da tempo alcune cose insieme ma che proprio in occasione del covid insomma si è intensificato un po' questo rapporto artistico per cui diciamo che lei si è lasciata molto influenzare dalla mia musica e io molto anche dai suoi lavori per cui abbiamo fatto diciamo nell'ultima fase prima del lockdown anche dei concerti con le sue opere esposte e poi durante il lockdown abbiamo prodotto anche dei video che mettevano qualche maniera la mia musica con le sue opere in rete e poi proprio sotto Natale lei ha fatto ha prodotto una serie di lavori che ha intitolato Civico 2020 lavori molto belli che erano sia dei lavori fisici dei quadri dei piccoli quadri ma anche poi era tutto un lavoro anche con una serie di personaggi in rete e diciamo abbiamo fatto insieme un concerto con i suoi lavori esposti che appunto io poi ho deciso di chiamare appunto Covid Civico 2020 per il quale poi ho scritto anche della musica originale che in questo periodo proprio anche con il mio collaboratore amico Andrea Rossetti stiamo cercando anche di registrare per farne poi un lavoro da mettere in fretta ecco si formano molte di queste cose in questo periodo così come anche recentemente ho registrato delle cose ancora non sono pubbliche ma insomma ci stiamo lavorando insieme ad una mia bravissima collega della Repubblica cieca che è Caterina Pavlikova saxofonista di grande pregio abbiamo registrato insieme alcune cose anche un po' difficili di Paolo Indemit però diciamo ecco questo è frutto probabilmente anche del fatto che stiamo molto tempo a casa quindi no ci connettiamo in questo senso ecco queste sono delle cose ho citato ce ne sarebbero anche altre ma queste sono due cose molto importanti ecco di quest'ultimo periodo quindi diciamo si fa anche un po' di necessità virtù ovviamente io quello che mi chiedo no che poi io prendo nota e segno mi dicono tutti quanti ma il professore Palese ma quale Palese perché ci sono anche un altro professore ma il professore quello che suona è il saxofano ma qual è il segreto che usa per fare gli album aspetta ora che lo intervisto glielo chiedo perché quando Fulvio Palese registra gli album diciamo il cosiddetto CD no? sì quando senti quella musica senti proprio come proprio qualcosa proprio che nasce e vogliamo sapere se è possibile so che non si svevano i trucchi del mestiere però come devo dirti c'è quella come dire quella quella necessità quel segreto che Fulvio Palese ha per fare questo CD perché il CD che mi ha dato è qualcosa di un nuovo luogo artesia è qualcosa di fantastico come CD anche però quell'altro che ha fatto che ha fatto con Maurizio Danna che è quello che ho detto prima anche ha il suo valore cioè ogni ogni lavoro che fa Fulvio Palese vinciona il jazz ma è un segreto non lo so nel senso io credo che la musica fra l'altro parte che avere delle belle idee bisogna anche per realizzarla bene anche come dire tecnicamente quindi credo di avere la fortuna anche di di aver avuto sempre intorno dei musicisti bravissimi per esempio potrei citarmi cito alcuni qualcuno anche lo dimentico però per esempio Francesco Pennetta Pietro Vincenti Viz Moro Giovanni Paolo Romano poi anche alcune collaborazioni nell'ultimo disco c'è anche un cammeo fatto da Carolina Bubbico con la quale abbiamo fatto come dire una di di nostra versione di Guarda che è luna di Grande Fede Buscaglione quindi musicisti diciamo sicuramente secondo me di primo ordine questi nomi per gli addetti lavori rimandano diciamo a situazioni a progetti molto importanti a livello internazionale quindi non sto qui adesso che hanno accettato di collaborare con me su queste mie idee diciamo mettendoci dentro ecco questo forse può essere mettendoci dentro un po' lo stesso mio entusiasmo perché una persona si può entusiasmare per le proprie cose ma che anche i suoi amici poi si possano entusiasmare per le sue cose questo non è scontato invece in questo caso ho sempre avuto persone diciamo molto partecipi amiche volmente io dico sempre che la musica si fa per tanti motivi per mestiere per tante cose però si fa anche molto in amicizia io credo che i musicisti suonano bene quando sono legati all'amicizia che è una bella parola che mi piace tanto credo che sia successo questo francamente poi detto questo ecco mi è stato sempre detto che la mia musica è sempre molto sincera nel senso che io faccio sempre le mie cose sono sempre io quindi non sto a non vado dietro alle mode del momento non è che se quest'anno prossimo scoppia la mania del trap io faccio un disco trap voglio dire quindi faccio Fulvio il jazz che tu fai è qualcosa di io presumo ma anche quello perché voglio dire guarda il jazz è una cosa anche un po' particolare non è un genere così ristretto perché all'interno del jazz ci sono anche tanti sottogeneri quindi bisogna sempre intendersi che cosa sta a fare anche lì ho sempre cercato di mettere dentro la mia musica nei miei dischi sono quasi tutti i miei dischi sono quasi tutte le mie composizioni poi escluso un disco che è stato un omaggio che ho voluto fare insomma a quello che è stato il mio faro di una vita che è Sonny Rollins però detto questo negli ultimi tempi ho cercato sempre di fare veramente la mia musica le mie cose e il fatto che qualcuno mi dica appunto come stai dicendo tu che si riconosce in queste cose Fulvio Palese credo che la cosa abbia funzionato però ripeto gli ingredienti per cui poi alcune idee diventano diciamo anche belle fruibili godibili eccetera sono tanti sono chiaro che ho citato i i musicisti ma ovviamente dipende anche come i dischi vengono prodotti dove vengono registrati che è il tecnico del suono insomma tanta roba io registro in uno studio uno strano molto bello che è Corrado Prodarkon dove ho conosciuto delle persone molto in gamba il grande esatto il grande il grande lui luciana però lui è lì ho conosciuto appunto luigi caridi e tutti i loro collaboratori sono tutte persone insomma stiamo parlando di persone che ormai sono da 20 trent'anni della musica produrre lo strumento fondamentale anche il tocco di classe si 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 devono adeguare alle nuove tecnologie eh questa è un'altra domanda che mi ha votato beh si 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 perché no comunque perché no nel senso che noi dicevo prima si va a registrare in uno studio beh certo non si registra più sui bobbinoni si registra solo sul computer quello vuol dire no quindi la tecnologia va sfruttata bene certo ci sono delle cose appunto degli anni ottanta ho avuto il piacere di fare un breve tour con con un personaggio incredibile che è Tony Adley che era il cantante di Spandau Ballet quindi questo tubo mitico degli anni ottanta quando insomma eravamo eh insomma io ero adolescente quindi li ascoltavo perché era una delle band planetarie no loro erano diciamo loro i Duran Duran diciamo sì e loro avevano un grande utilizzo del saxofono nei loro pezzi ovviamente ritrovarmi a suonare con lui appunto con Tony Adley che era comunque il vocalist della band e con fra l'altro con l'orchestra della Magna Grecia insomma una grande grande esperienza ecco è stato molto emozionante di musica acustica fatta nel caso particolare fra l'altro con una grande orchestra sinfonica con questo personaggio fra l'altro in grande forma dal punto vista vocale è stato bello poi mi è capitato anche di produrre della roba utilizzando molto l'elettronica anche alcune cose anche in ambito della musica house con insomma da mela ma questo è già da molto tempo diciamo già molti anni fa perché no il musicista deve sforzarsi di fare delle cose belle ecco di comunicare anche un po' della sua essenza attraverso la sua musica che poi questo si faccia attraverso in un teatro attraverso un'orchestra classica o utilizzando sapientemente quello che oggi la tecnologia ci mette a disposizione francamente non ci trovo nessuna nessun problema anche noi stiamo facendo un'intervista io sono davanti a uno schermo tu sei nel tuo studio probabilmente anche dieci anni fa questa cosa non sarebbe stata possibile forse quindi dobbiamo cercare di sfruttare al meglio quello che la tecnologia ci offre ovviamente sempre con le devute cautele insomma senza inquinare senza eccedere nelle cose come lei anche un docente quali sono le regole per diventare un bravo musicista quanto bisogna studiare al giorno questa è la prima domanda facciamo tre in una così così abbriamo anche i tempi poi giustamente mi hanno chiesto anche di dir l'avevo già pensato e intervivo oggi poi questa intervista a Puglio Varese tu sei uno straordinario diciamo più sposo del sax quindi lui oggi nella squadra eccellenza diciamo di varie iniziative da quale genere bisogna cominciare per trovare la propria strada o passione musicale con questa domanda e poi ci concludiamo verso la fine tu stesso mi stai dicendo mi hai detto anche prima hai fatto capire anche dai due spi che ci stanno seguendo che l'impegno e le terminazioni sono fondamentali sapere scrivere e leggere musica è importante per un buon musicista a te il microfono Puglio sfogati perché queste domande erano molto belle allora premesso che la musica si suona e non si legge quindi e neanche si scrive nel senso la storia della musica anche della musica pop così è piena di personaggi che non sapevano né leggere né scrivere la musica però intanto hanno non voglio fare nomi perché sono per esempio che nomino qualcuno perché non mi sta simpatico non voglio fare nessun nome ma insomma vuol dire basta andare a girare anche all'interno del nostro cantautorato semplicemente non è che troviamo non è che sono tutti Riccardo Muti per dire oppure Foncarajan sono delle persone che hanno avuto delle belle idee diciamo così che ovviamente poi sono stati anche contornati da musicisti che hanno messo in forma queste idee le hanno orchestrate le hanno arrangiate hanno deciso quali strumenti per suonare eccetera la musica è una cosa molto complessa da questo punto di vista quindi diciamo serve saper scrivere e leggere la musica secondo me sì a un musicista sì voglio dire soprattutto se uno non fa il cantante se non ha la parola diciamo così ecco essere in grado di maneggiare bene nella materia e questo è quello che cerchio di trasmettere anche ai miei allievi quindi di essere in grado di anche velocemente di prendere uno spartito leggerlo capire che si tratta secondo me è una cosa importante e questa è una prima cosa da quale genere iniziare questo veramente non saprei in un senso le sensibilità delle persone per fortuna sono tante le più diverse quindi non non saprei dire una cosa è certa che secondo me da qualche parte bisogna studiare nel senso che anche quando si vanno a guardare le storie di personaggi che sembra che non abbiano studiato mai niente parlo ovviamente di personaggi importanti quando vuoi vedere quelle storie vedi che queste persone comunque hanno avuto a che fare con qualcuno sono stati in qualche luogo hanno acquisito la musica non è detto che si debba acquisire in una scuola o al conservatorio certo se io voglio fare il primo violino se aspiro a fare il primo violino nell'orchestra della scala di Milano beh certo devo andare al conservatorio o in un'altra scuola analoga perché quella è l'unica strada per tentare di arrivare a quell'obiettivo se voglio fare il canto autore voglio fare il turnista dei gruppi rock forse il conservatore potrebbe anche non servirmi ma da qualche parte devo andare comunque a studiare cioè vuol dire che sia la strada che siano i club il jazz è stato per molti decenni una musica a trasmissione praticamente orale cioè si andava a capire come si fa sentendo suonare gli altri però bisognava andare io ho conosciuto musicisti che mi hanno raccontato con qualcuno di questi per esempio Dennis Chambers per dire che è un grandissimo batterista mi sono quando ero piccolo mio papà mi portava a vedere dei concerti che io non capivo neanche chi fossero e poi ho capito quando sono diventato più grande che in molti di questi concerti io ho sentito suonare Miles Davis capito ce ne sento quindi da qualche parte bisogna andare ad apprendere secondo me quindi non c'è l'innatismo non è che uno nasce veramente sì per carità ci sono persone più portate di altre però non basta francamente soprattutto a suonare uno strumento e poi per finire allora se io fossi se io avessi la cognizione di che cosa serve per diventare un grande musicista beh credo che non starei qui nel senso ma non qui con te non starei qui su questa terra sarei Dio io non lo so che cosa ci vuole per diventare un grande musicista posso dire che una cosa di una cosa sono molto convinto che la musica è una pratica e questa parola pratica la dico così come la usano anche nell'ambito un po' anche della meditazione zen si dice che la meditazione è una pratica perché è una pratica perché bisogna farne un pochino tutti i giorni un po' tutti i giorni un po' anche come lo sport per certi versi Usain Bolt per dire stiamo parlando uno dei più grandi velocisti di sempre che correva i 100 metri in 9 secondi e qualcosa che è un tempo che io non so dove iniziare ma credo che la stragante maggioranza degli uomini di questo mondo non sappia dove iniziare significa che uno quando sta pensando di partire quello è già arrivato di questo stiamo parlando beh non credo che tutti i giorni lui corresse i 100 metri in 9 secondi si allenava però si allenava tutti i giorni voglio dire quindi abbiamo sentito anche recentemente quando purtroppo è venuto a mancare il grande Diego Armando Maradona che si è sempre detto sì ma lui perché sì ma lui poi la sera andava lì se ne andava femmine qua là si drogava quando proprio in occasione della sua morte abbiamo sentito anche i suoi compagni di spogliatoio dire no sì è vero era uno che faceva una vita un po' sopra le righe ma quando in realtà nei periodi in cui sapeva che doveva dare il massimo lui si allenava e come non era per niente così scellerato magari non si allenava con gli altri perché era superstar però si allenava quindi ecco credo che la musica sia un po' non è proprio esattamente un allenamento però ho citato Maradona perché lui è un po' artista anche del calcio ecco credo che bisogna farne un po' tutti i giorni bisogna avere a che fare con la musica un po' tutti i giorni se uno suona uno strumento lo deve suonare un po' tutti i giorni ecco appunto l'inizio è una pratica è uno stile di vita ovviamente un musicista può vivere solo con i live oppure l'opera intervittuale che spesso sappiamo si scarica anche gratis può avere qualche forma di redditività allora oggi la stragrande maggioranza del reddito di un musicista nel senso della tua pratica proprio musicale dei concerti sono i live che francamente non si vendono dischi ovviamente si vendono pochi dischi nel senso non un numero che possa giustificare diciamo certe volte che possa giustificare anche la spesa di produrre un disco la rete restituisce qualcosa a nì cioè restituisce qualcosina ecco bisogna capire poi anche lì bisognerebbe capirsi che cosa significa avere come dire introiti dalla rete se ne hanno molti di più appunto per esempio inventandosi un canale youtube su una determinata cosa di quanti non se ne possono avere magari dei proventi dei diritti d'autore ma qua entriamo in un discorso veramente complicato io sono fiducioso devo dire la verità che questa situazione che stiamo vivendo che è planetaria no? perché il discorso del covid non è una sola cosa dell'Italia o della Germania o della Francia ma è una cosa planetaria praticamente io credo che in qualche maniera cambierà anche un po' il modo della fruizione della distribuzione della musica ne sono non lo so ne sono molto convinto insomma non sicurissimo ma molto convinto nel senso che finalmente questa il fatto di essere costretti a non fare determinate cose in qualche maniera ci porterà poi a farle in un altro modo nei prossimi tempi quindi ma anche il discorso di come si distribuisce la musica la domanda oggi sarebbe anche assenza ancora parlare di disco cioè il disco era The Dark Side of the Moon di David Floyd cioè quello era un disco oggi assenza parlare di disco assenza come dire pensare a 10-12 traccia e si mettono su un ipotetico supporto che poi in realtà non esiste più nelle case non ci sono più lettori cd ragazzi questo diciamo ci sono molte persone che non sanno i nativi digitali non sanno cosi sia un lettore cd io ho degli allievi che hanno 10-12 anni che non hanno mai visto un lettore cd neanche nella macchina quindi come si distribuisce la musica secondo me qualche interrogativo dobbiamo porcelo e credo che questa situazione dalla quale spero che verremo presto fuori ci aiuterà secondo me anche a darci qualche risposta in questo senso ecco allora tu sei anche professore palese e anche un grande talent scout come si riconosce un ragazzo quando è talentuoso come si individua ma no non sono un tale scout nel senso mi è capitato di di incrociare dei ragazzi lo sei lo sei dai lo sei no no ma guarda nel senso quantomeno non in maniera programmatica nel senso mi è capitato di incrociare dei ragazzi molto più giovani di me che poi buon per loro come dire hanno intrapreso le carriere insomma poi molti di questi oggi mi dicono grazie ma non l'ho fatto con la volontà di di lanciare talenti ecco vuol dire quello è un altro mestiere che lo lasciamo fare a quelli bravi non saprei certo una cosa è certa che quando si trova si sente suonare una persona si sente fare qualcosa a una persona beh quasi subito ma dopo un po' si percepisce quando c'è qualcosa di importante cioè se si ha anche un po' la pazienza no di ascoltare ovviamente perché certe volte noi ecco diciamo ci manca un po' la pazienza di ascoltare gli altri però se mi è capitato di sentire dei ragazzini proprio ovviamente alle prime armi alcune volte mi succede anche adesso potrei citare quest'anno scusatemi prima non ho non ho detto una cosa che sto facendo molto bella quest'anno perché mi hanno coinvolto come dire nella partenza di una nuova scuola indirizzo musicale che è l'istituto comprensivo di Lizzanello Merina dove c'è creato questa classe indirizzo musicale indirizzo musicale nelle scuole medie funziona che i ragazzi fanno ovviamente le loro lezioni mattutine e poi il pomeriggio fanno lezioni di strumento quindi diciamo è il primo step diciamo oggi con oggi nella scuola pubblica della formazione musicale beh lì ho un gruppetto di ragazzi che fanno saxofono con me e fra questi ce ne sono alcuni che sono che effettivamente dimostrano qualcosa più di altro questo può non significare nulla perché poi magari nel tempo bisogna vedere però ecco in alcune persone si sente il quid quella scintilla la cosa bella è che si sente spesso in persone che magari per dire non brillano in altri contesti proprio per ritornare ovviamente non farò mai il nome perché non è il caso ma non è quello importante però per ritornare all'esempio che stavo facendo in questa scuola ho un allievo bravissimo che potrebbe veramente come dire prendere una strada decollare studiare la musica e diventare un bravo sottomista che diciamo così non eccelle nelle altre discipline cioè nel senso italiano storia sono delle discipline normali invece con me è bravissimo secondo me è bravissimo ha veramente qualcosa a stoffa secondo me anche se lo conosco da poco ecco questi sono delle sensazioni alcune volte che emanano diciamo alcuni soggetti alcune volte sono ovviamente si rivelano anche veritiere alcune altre volte poi come dire non si rivelano veritiere soprattutto perché appunto come dicevo prima la musica è qualcosa che si coltiva nel tempo per fare il musicista c'è bisogno di tempo bisogna dedicare il proprio tempo bisogna dedicarsi a questa cosa allora poi bisogna vedere se poi un ragazzino adesso che ovviamente che mi sembra molto molto ben promettente e portato poi io ovviamente deciderò di portare avanti una passione di farlo diventare il proprio percorso eccetera eccetera però non sono un tale scout mi piace dire perché comunque il talent scout uno vede il professore parese sai diciamo talent scout intendevo quella persona che già sa quando un ragazzo può avere il successo quindi perché tu tanti anni che fai musica giustamente capisci subito qual è il si ha la stoffa per avere successo si capisce io ci faccio una domanda ci faccio una domanda perché l'ho fatto io questa qua perché da tempo che io cerco la risposta anche facendo degli studi in privato perché il jazz o jazz come dice Dino Padruno perché se io lo chiamo jazz Dino Padruno mi ammazza no no ma infatti ma infatti si dice jazz ha ragione Lino Lino che per l'altro vi anticipo che non posso dire molto perché la cosa è anche molto ancora in fieri ma se tutto andrà bene e io spero che andrà bene lo avremo ospite quest'estate in una iniziativa qui nel Salento il caro Lino Padruno arriverà anche il tuo per essere intervistato lo devo contattare no no ma per là qui nel Salento quindi in una cosa che stanno organizzando non posso dire più di questo ma voglio voglio anche io essere proprio presente quindi poi poi i dettagli li definiamo dopo perché si sente tanto nei locali questo jazz questo jazz questo jazz si sente tanto nei locali ma poi si sente poco in radio perché? guarda sai che non sono neanche molto d'accordo su questa cosa nel senso il jazz è una cosa diciamo è chiaro che è una musica molto innanzitutto che ha bisogno di Fulbione con Mario Biondi con una voce in terra capito? c'è un jazz però però per esempio nella musica di Mario Biondi ultimamente non tanto ma insomma soprattutto nella prima fase c'era molto jazz no è solo jazz no nel senso adesso ho cambiato un po' anche stile ho cambiato collaborazioni però insomma con Mario Biondi ha suonato Fabrizio Bosso ha suonato Daniele Scannapiego sono notoriamente i grandi jazzisti la sua musica era molto piena di jazz quindi in Italia abbiamo avuto Paolo Conte che è uno dei cantatori che è stato un cantatore o un personaggio molto vicino al mondo è chiaro e poi sai fatico a pensare che nella musica di grande consumo una mattina sento un dj che mi mette un pezzo di Dexter Gordon questo forse no però non sono così convinto che il jazz sia così assente alla musica perché invece è un genere che ha molto come dire invaso anche gli altri generi anche molto la musica pop no? nel senso quindi credo ecco così che basta un po' saper ascoltare certo chiaro ripeto probabilmente se non in certe nicche radiofoniche mi viene in mente che non so Rai Stereo Notte non so qualche volta insomma cose così si sentono delle cose però oppure in qualche ecco questo forse in tutto questo forse ecco la rete se insomma si fa questo passaggio soprattutto per le radio verso il digitale ecco la rete potrebbe aiutare molto perché è chiaro che i canali tematici aiutano molto in questo se uno vuole ascoltare determinate cose certo è come dire che nella tv generalista io normalmente la sera non vedo un film di Kislowski ma questo è chiaro che non sarà così il discorso è un po' complesso ma è un po' così chiaro noi siamo ancora un po' schiavi delle rete generaliste sia in televisione che in radio però insomma credo che ci sia spazio oggi per sentire anche il jazz io già leggevo qualcosa però volevo parlare prima con te per poi andare poi a come dire a commentare quello che loro hanno detto perché sinceramente secondo me il jazz è molto importante perché veramente come tutti i generi di musica perché comunque tracciano un percorso di storia di storia della propria città della propria nazione del proprio contesto internazionale quindi secondo me anche quello deve essere far parte di quella di quella catena perché definiamoci proprio io parlo sempre di radio perché sai benissimo che a me piace molto fare radio la radio secondo me è come una squadra di calcio non c'è né più e né me uguale i preparatori sono i tecnici del suono il direttore artistico è quello che diciamo allena un po' tutti quindi il presidente diciamo e poi bisogna considerare che adesso bisogna fare un discorso come dire anche radiofonico ragionare con l'equip di squadra la figura di XY deve sparire cioè deve essere una famiglia e così penso che qualcosa in Italia succederà ti faccio un'ultima domanda e questo è un appello che chiedo al Fulvio Palese sappiamo benissimo che cosa sta succedendo Fulvio con questi con questi social con questo diciamo avvento di questo di questo portale che crea tante vittime quotidianamente e proprio oggi leggevo un altro caso di nuovo di macchie per bini che si buttano sotto le automobili basta basta io non ne posso più sentire accendere da padre da genitore da genitore da padre diciamoci anche da fratello più grande Fulvio Palese cosa consiglia cosa cosa bisogna fare per utilizzare meglio la rete ed evitare questi e poi chiudiamo la nostra intervista anche qui se avessi una risposta univoca diretta insomma mi sentirei fortunato dico che certamente gli interessi diversificati dei ragazzi ma non solo dei ragazzi perché poi la rete è un problema noi spesso pensiamo che gli unici che creano problemi in rete siano dei ragazzi ma non è così anche noi adulti ci mettiamoci tutti dentro perché poi facciamo tutti parte di questo mondo anche noi adulti spesso come dire ne combiniamo in rete però per stare appunto a questo fenomeno che stiamo vedendo ultimamente io credo che diversificare i propri interessi quindi che poi significa anche un po' impegnare il proprio tempo diciamo la verità ecco questo deve essere una cosa che secondo me le famiglie gli educatori insomma che si trova a che fare con i ragazzi devono cercare di stimolare non è non è facile in verità non è facile io ho a che fare con parte diciamo per il mio ruolo di padre con mio figlio ma ho a che fare con molti ragazzi che sono dell'età di mio figlio più piccoli qualcuno più grande alcuni ovviamente seguono le sollecitazioni altri no però credo che sia questo cioè mi verrebbe a dire suonate uno strumento mi verrebbe a dire compagno al bicicletto il computer sì ma sai la noia cioè il tempo il tempo passato seduti ok seduti sul divano o con il ditino sullo schermo di un aggeggio io credo che sia la base di molti di molte di queste di questi problemi è una conseguenza pulvio tutto ciò è una conseguenza di stare attaccati verso un oggetto in questo caso il cellulare o questo diciamo questo network no sì perché sì perché sì scusami scusami no no era semplicemente la conseguenza voglio farti capire sì perché poi il problema attuale ovviamente che i social mentre diciamo cioè ai nostri tempi si faceva un po' lo stesso discorso rispetto alla televisione no cioè i bambini io proprio dire né sono stato mai abbandonato diciamo il televisore né mi sono mai abbandonato diciamo francamente diciamo sì l'ho guardata la televisione la guardo tuttora ma diciamo non è stata l'unica cosa che ho fatto nella mia vita per fortuna però diciamo c'era questo era era un problema ma sai era come dire un atto quasi di solitudine no c'era un soggetto che guardava uno schermo eccetera adesso purtroppo dico purtroppo ma anche per fortuna per molti altri versi ovviamente la rete connette non solo informazioni ma connette proprio le persone e quindi la facilità di creazione anche di un gruppo che poi decide di trovarsi a Ponte Emilio come hanno fatto lì dove erano a Roma a scazzottarsi la sera eccetera eccetera beh questa cosa sicuramente ma pure la Galleria pure la Galleria c'è a tutte parti c'è sì 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 la cosa sta dilagando sta dilagando ripeto non getterei soltanto adesso la colpa sui giovani sui giovanissimi perché ripeto la rete è piena di gente anche adulta che fa guai uguali anche senza magari apparire su queste piattaforme adesso appunto di coesione no quindi diciamo credo che bisogna stare un po' meno attaccati al cellulare questo cercare di avere qualcosa da fare è difficile però bisogna stimolare questa cosa ecco se uno sta in un pomeriggio ma c'è che avere sei ore per appunto per connettersi non dico tutte e sé ma due di queste ore le passa per fare un giro in bici o per fare per andare a farci una corsetta oppure per studiare uno strumento per fare qualsiasi altra cosa per andare ad innamorarsi insomma si possono fare tante cose nel tempo ecco questa cosa forse ci potrebbe un po' proteggere ecco l'abuso dell'abuso della tecnologia ovviamente spesso crea mostri ma ripeto non è soltanto un problema dei giovani è un problema che riguarda tutti noi purtroppo diciamo spesso la cronaca è piena anche di casi di adulti che attraverso appunto queste tecnologie commettono cose deplorevoli io ringrazio veramente tanto 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 il professore palese è un amico e io sicuramente con gli amici la prima cosa che io dico l'amicizia è la prima cosa quando si è amici si può veramente creare tanto e si può arrivare veramente a più e tanti obiettivi ringrazio nuovamente il professore palese per averci deliziato della sua maestria direi anche oratoria perché è un grande oratore il professore palese io non lo sapevo che era anche in filosofia quindi non lo sapevo proprio non me l'ha mai detto nonostante nonostante siamo amici non mi ha mai detto perché quello non ce l'ha questa questa un'arma che il professore ce l'ha sempre nascosta l'ha mai detto giusto il professore ha studiato filosofia ma io dopo l'ho laureato in filosofia va bene io ringrazio veramente il forte 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 l'abbraccio forte forte grazie caro mi auguro che ci vediamo al primo spettacolo utile professore eh infatti infatti dai con la speranza che tutto finisca e che questa pandemia veramente la lasciamo indietro abbiamo durato precisamente l'intervista di un'ora per un'ora per un'ora per un'ora capito adesso adesso me ne vado a cenare però eh e vi saluto tutti ok ci vediamo alla prossima puntata il martedì saremo con l'avvocato Pamela Calabrese un avvocato che tratta temi di quant'anni di bambini e di tanto e una grande professione ciao a tutti ci vediamo ciao 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 a tutti ciao 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 Grazie a tutti. 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 DJ!